Terza parte dell'ottava lezione per l'insegnamento di metodi matematici per l'ingegneria. Se conosciamo la z trasformata di qualche successione, possiamo risalire alla successione che abbiamo trasformato? Beh, i valori della successione non sono altro che i coefficienti dell'espansione della parte singolare in serie di Loran della z trasformata. Ricordiamo che se abbiamo una funzione f di z olomorfa per tutti i z maggiori di r, quindi abbiamo in una regione esterna a un disco, questo lo possiamo pensare come una corona circolare con raggio esterno infinito, possiamo svilupparla in serie di Loran e quindi la nostra f di z avrà una parte regolare, somme per k che va da 0 a infinito, chiamiamole dck di z alla k, e una parte singolare, quindi per k che va da 1 a infinito, chiamiamoli vk z alla meno k. Ecco, le nostre z trasformate corrispondono a questa parte qui ed eventualmente al termine c0 della parte regolare, tutto il resto va nella parte singolare, e noi abbiamo visto anche che i coefficienti della serie di Loran sono dati da formule ottenute facendo integrali su cammini chiusi che girano una volta intorno al centro della serie, e quindi andandole a ricordare, noi abbiamo che i ck, usando le formule integrali che determinano i coefficienti che li abbiamo ricavati nella lezione di ieri, sono dati da 1 su 2 pi greco i, integrale chiuso sul cammino gamma semplice che circonda un dominio che gira intorno all'origine, di f di z, fratto, avremmo usato la lettera w mi pare, quindi f di w, w meno il centro, in questo caso il centro z0 adesso è l'origine, quindi w meno 0, quindi w alla k più 1 di w, questa era la formula per i coefficienti della parte regolare, per i coefficienti della parte singolare la formula è praticamente la stessa, però cambia il segno di k, quindi otteniamo ancora un integrale su un cammino chiuso, e qui avremo f di w fratto w alla meno k più 1, che possiamo portare su, quindi w alla k meno 1, quindi w, queste sono le formule che abbiamo ricavato quando abbiamo parlato degli sviluppi di Laurent, e quindi questo è un modo per ricostruire dalla funzione f di z, i valori dei coefficienti della sua parte singolare, quindi della successione che abbiamo trasformato se la nostra funzione era la z trasformata, quindi abbiamo che se la z trasformata di una successione v in z non è altro che v0 più somme per k che va da meno 1, da 1 infinito di vk, z alla meno k, ecco che quindi il termine v0 non è altro che l'integrale, che è 1 su 2 pi greco i integrale della nostra z trasformata di v in w che moltiplica, sarebbe diviso w alla 0 più 1, quindi diviso w, e tutti gli altri, basta cambiare il k, quindi 1 su 2 pi greco i integrale su g, di z di v in w che moltiplica w alla k meno 1 in d w, questa formula funzionava anche quando k è 0, viene fuori la stessa cosa, ecco questa è una formula integrale che mi permette di ricostruire la successione da cui sono partita conoscendo la z trasformata, questa la chiamiamo la formula di inversione. Quindi data la z trasformata ricostruiamo la successione da cui siamo partiti. ribadiamo che il cammino gamma deve essere preso dentro al dominio di olomorfia della z di w e deve fare un giro intorno all'origine, quindi gamma deve essere una curva semplice, gamma deve essere una qualsiasi curva semplice che ruota intorno alla regione su cui la funzione è olomorfa, gamma, quindi gamma lo possiamo pensare come il bordo di una certa regione D, facciamolo in giallo questa D, dove D è una regione dove D contiene la palla di centro 0 e il raggio R, dove R è il raggio di convergenza. Osserviamo che comunque non tutte le funzioni olomorfe sulla regione dove Z è maggiore di R sono la Z trasformata di una successione VK con K in N0. Perché è questo? Perché le funzioni olomorfe su un dominio esterno a una palla hanno la forma di sviluppo di Loran. Con le Z trasformate possiamo ottenere qualsiasi parte singolare, ma la parte regolare otteniamo solo delle costanti, non otteniamo termini con coefficienti CK diversi da 0 quando K è maggiore di 0. Ecco, quindi nelle Z trasformate non avremo mai questa parte regolare. Ecco, però data una funzione olomorfa su Z maggiore di R, la sua parte singolare corrisponde alla Z trasformata di qualche successione. ma la parte singolare dello sviluppo di Loran è la Z trasformata di qualche successione. Un'altra proprietà importante è che due successioni distinte non possono avere la stessa Z trasformata, ovvero la Z trasformata è un'operazione iniettiva. quindi la Z trasformata è un'operatore iniettivo. Possiamo dire anche qualcosa di più sull'iniettività, cioè se abbiamo due Z trasformate che coincidono localmente intorno a un punto, essendo funzioni olomorfe, quando due funzioni olomorfe coincidono intorno a un punto, esse coincidono in tutto il dominio di olomorfia. Quindi se abbiamo che F di Z è la Z trasformata di una sequenza U e G di Z è la Z trasformata di una sequenza U. Questo, la prima, supponiamo che abbia raggio di olomorfia R U, la seconda, supponiamo che abbia raggio di convergenza R U, e abbiamo che F di Z è identico a G di Z per ogni Z in un intorno di un punto Z0 che sta dentro il dominio di olomorfia di entrambi, quindi con Z0 maggiore del massimo tra R U ed R V, allora necessariamente la F coincide con G per ogni Z che sta nel dominio comune di olomorfia, quindi con modulo maggiore del massimo tra R U ed R V. Quindi di fatto F e G sono la stessa funzione olomorfe. Questo segue dal fatto che se due funzioni olomorfe coincidono localmente, cioè in un intorno di un punto, allora coincidono su tutto il dominio, purché il dominio sia un insieme aperto connesso, sulla componente connessa del dominio, ma i nostri dominio di olomorfia sono degli intorni di infinito e questi sono sempre connessi. Se poi le due trasformate coincidono, questo come conseguenza, usando la formula integrale per determinare i coefficienti, siccome i coefficienti sono determinati dai valori della trasformata su una curva chiusa contenuta nel dominio di olomorfia, se le due trasformate coincidono, anche questi integrali coincideranno, quindi avremo che i termini della successione UK sono dati da 1 su 2 pi greco i integrale chiuso su una curva gamma di Z di U, quella che abbiamo chiamato F, F di Z per Z alla K meno 1 di Z, ma su gamma F e G coincidono, abbiamo detto, quindi 2 pi greco i integrale su gamma di G di Z, Z alla K meno 1 di Z e questo mi dà i coefficienti della successione VK e quindi troviamo che la successione U coincide con la successione V, quindi l'uguaglianza delle Z trasformate, anche localmente, solo intorno a un punto, non è necessario verificarla dappertutto, ha come conseguenza la coincidenza delle due successioni, quindi abbiamo l'iniettività, anche a livello locale, delle Z trasformate. Sempre elaborando sul discorso della formula di inversione, quindi su questo integrale, vediamo cosa possiamo dire di questa formula, allora la andiamo a riscrivere, quindi il coefficiente k-esimo della successione è dato tramite la formula di inversione è dato da 1 su 2 pi greco i l'integrale sul cammino chiuso gamma che fa un giro dentro al dominio di olomorfia della Z trasformata di V calcolato in Z per Z alla K meno 1 di Z. Questa funzione qui è una funzione che è olomorfa quando Z ha modulo maggiore del raggio. Ora, se il raggio di convergenza R è nullo, abbiamo che Zv di Z per Z a K meno 1 è olomorfa su C meno l'origine, quindi nel caso in cui la funzione sia olomorfa su C meno l'origine, e questo cosa ci dice? Ci dice che questo integrale qui non è altro che il residuo di questa funzione che stiamo integrando quindi di ZK meno 1 Z di V di Z calcolato in 0. In generale non sappiamo sempre che il raggio di convergenza sia 0 però può capitare come abbiamo visto per esempio nel caso delle successioni periodiche che se Z di V si estende in modo olomorfo sul piano complesso C meno un numero finito di punti sicuramente dovremmo togliere l'origine perché l'origine è un punto di singolarità per le serie di Loran e poi avremo magari un numero finito di punti Z1 Z2 ZH punti quindi supponiamo che la Z trasformata come funzione olomorfa si estende in modo olomorfo su tutto il piano complesso meno un numero finito di punti noi quello che possiamo fare possiamo prendere un cammino chiuso che gira intorno a tutti questi punti quindi ci sarà un certo raggio di convergenza fatto in modo che tutte le singolarità della funzione sono contenuti dentro hanno modulo minore del raggio di convergenza andiamo a prendere la nostra curva gamma che gira abbastanza alla larga dai punti singolari quindi non interseca quando andiamo a fare l'integrale su questa curva gamma per il teorema dei residui quindi usando il teorema dei residui troviamo che questi valori VK li possiamo anche recuperare facendo se abbiamo più di una singolarità faremo la somma su tutti i residui quindi per J che va da 1 anzi da 0 ad H quindi Z0 chiamiamo l'origine dei residui della funzione ZK-1 Z trasformata di V in Z nella singolarità isolata ZJ quindi tramite la formula tramite il calcolo di residui abbiamo un altro modo per ricostruire la successione da cui siamo partiti e poi inoltre sappiamo che queste singolarità sono tutte dei poli quindi se inoltre le singolarità ZJ sono dei poli di ordine M J per la funzione che stiamo considerando quindi per ZK-1 Z allora abbiamo visto anche delle formule per calcolare per calcolare i residui nei poli facendo limiti di derivate di certe funzioni quindi mettendo insieme le formule che abbiamo già trovato in passato nelle lezioni precedenti otteniamo che VK sarà la somma sui vari sulle varie singolarità isolate dei residui i residui se vi ricordate in un polo di ordine M si ottengono facendo 1 su fatto M-1 fattoriale per il limite per Z che tende alla singolarità ZJ della che cosa? della derivata rispetto a Z di ordine M-1 qui M dipenderà anche da J M-1 di che cosa? della funzione che stiamo considerando quindi Z alla K meno 1 trasformata Z di V calcolata in Z moltiplicata per Z meno ZJ alla M ok questo è il limite calcolato in ZJ questa è una formula abbastanza complicata da scrivere però tenete presente che in generale se le moltiplicità sono piccole per esempio se i poli sono semplici qui abbiamo MJ uguale a 1 quindi non dobbiamo fare derivate e spesso facendo questa moltiplicazione troviamo comunque delle funzioni abbastanza semplici in casi concreti se gli indici non sono troppo alti comunque la formula vale in generale e potrebbe avere una sua utilità quando può servire di V